Juventus, muri in panchina a torso nudo, Allegri si accanisce. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Dopo l'acceso confronto tra Leandro Paredes e Massimiliano Allegri al training camp di Pasquetta, ieri c'è stata anche la visione del mondo nella finale dello Juventus Sporting Lisboa. All'ottantatresimo minuto della sfida allo stadio, con il punteggio ancora in bilico, Locatelli chiede un cambio in panchina e Allegri decide di includere Paredes, ma l'ex PSG non ha la maglia da gara, che avrebbe dato a un tifoso, che poi corre nello spogliatoio per prenderne un'altra, facendo scivolare il sostituto di un paio di minuti e mandando letteralmente il coach bianconero in rivolta. Nei video degli spalti dell'Allianz Stadium che circolano nella rete, e sono ormai virali, si vedono Allegri agitarsi e sbracciarsi dietro le quinte continuando a guardare la banca e lo si sente gridare diverse maledizioni che anche Chiesa e Pogba, che stava entrando in campo con l'argentino, guardano il suo allenatore con sorpresa. La spiegazione dell'esplosione è stata data dallo stesso tecnico toscano nel post partita, Miretti stava arrivando, quindi mi ha chiesto di cambiare Locatelli, Paredes ha pensato di non entrare e non ha avuto la maglia. Un episodio che sembra mettere fine all'esperienza di bianconeri de Paredes, che da quando è arrivato a Torino in prestito con un riscatto di 25 milioni ha collezionato 26 presenze per un totale di 1090 minuti giocati, solo 174 febbraio, con 0 gol, un assist, 4 avvertimenti e un'espulsione. Con l'eliminazione nella fase a gironi della Champions League, la Juventus non è obbligata a riscattare la propria carta e visto l'abuso e soprattutto gli episodi che si sono verificati questa settimana, sembra ormai ovvio che il club non eserciterà il diritto di salvataggio, probabilmente riportando Rovella dal prestito a Monza. Paredes, che tornerà a Parigi nell'ultimo anno del suo contratto con il PSG, ha un contratto netto di 7,5 milioni di euro a stagione.